Mi interessa da sempre chi fa fatica, motivo per cui Giardini lo frequento poco, lo conosco da 25 anni ma lo evito. Mi interessa chi fa fatica, mi è sempre sembrato che chi ha avuto la vita facile, chi ha le scelte già segnate, abbia meno da raccontare, mentre invece chi si sbatte come un pazzo per campare in questi tempi un po' disastrati è sempre più interessante e questa era la storia che poi alla fine volevamo raccontare di una famiglia, di due famiglie, anche quella di Sergio, che vivono i nostri tempi dove siamo tutti dei piccoli nuovi eroi che invece cercano di lottare appunto per la propria dignità che dovrebbe essere un diritto però, no? Marco sei d'accordo con questa lettura del film? Sì, 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 anche perché insomma, come ti ripeto, a me non sembra che questo problema che è stato affrontato da noi e da Rolando sia una cosa solo di adesso, insomma, come sapete, non è che queste cose succedono solo ora. A me sembra che dai tempi di Saragat, quando io sono nato, le cose non siano cambiate poi molto. Quando ero piccolo io, mi ricordo, c'era Saragat, se non sbaglio, negli anni 60, quando sono nato. E mi ricordo da Saragat in poi veramente pochi cambiamenti. Le televisioni dicono sempre le stesse cose, i partiti cambiano, si fondono, si rigirano. È cambiato un po' il rumore di fondo però, no? I poveri. All'epoca c'era comunque un ottimismo che ti spingiva, perché c'erano le vie, e io mi ricordo la via dove abitavo io, insomma, che mio padre, tanto per parlare sempre di questa problematica del tema che affronta il film, mio padre si costruiva una casa, ma con l'apporto e l'aiuto di tutti i parenti che venivano dall'Umbria, perché noi siamo nati a Roma, ma mio padre era di città di Castello. Lì nel dopoguerra è venuto giù a lavorare, a fare l'operaio di fornace qui a Roma, intorno. E venendo a casa, uno faceva il muratore, l'altro faceva l'imbianchino, quell'altro faceva il carpentiere, no? E pezzo pezzo la casa, diciamo che io dormivo all'inizio tra mezzi di foratini scoperti, senza vernice e senza coperti. L'intonaco, dicevo, c'è il bianchino, ti ricordi come si dice, no, vabbè, ormai sono diventato un intellettuale, non vorrei un borghese intellettuale, e non c'era l'intonaco, di conseguenza i materassi, i cuscini, cioè quelle realtà, e quella casa ci abbiamo messo una venticinquennia d'anni, insomma, la vernice è stata la data che io ero partito per far militare.